Dimostri che la sua idea ristorativa oltre alla sua sede è tra le location più innovative ed entusiasmanti della Svizzera. Da noi può presentare la sua azienda su molti piani diversi in maniera ideale. E solo in caso di nomina pagherà una licenza e potrà così commercializzare con successo la sua azienda dalle nostre piattaforme. Puoi candidarti in diverse categorie se hai un concetto innovativo che convince. Se la giuria la nomina sarà già tra i vincitori, saranno poi i suoi ospiti a valutare la sua prestazione. Alla notte degli hour night saranno scelti i vincitori all'interno delle categorie. La sua azienda resterà insegnita del premio anche l'anno successivo, riceverà un sigillo di qualità annuale e molti altri vantaggi. Visiti ora il nostro sito web e si candidi con la sua azienda.